Anna, fai il tuo rituale dei like magici, che funziona sempre. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo detto che se Lollo avrebbe raggiunto quanti like? 5.000, 4.000, 6.666. Nello scorso episodio quanto avevo detto? Non mi ricordo, devo ancora montarlo. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto i like che abbiamo chiesto, quindi in questo episodio se raggiungiamo 7.000 like sarà Charlie. No, no, troppo, 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 metti sempre 6.000, 4.000, 4.000. Guarda che è prezioso quello che sto per dire, perché Charlie farà il video senza la maglietta. No! Lo sapete che io questo video ho registrato solo in mutande? No! E se ho detto, non ho niente altro che le mutande. Ti hanno rubato gli stili? 7.000 like perché Charlie ha fatto il video in mutande, nel mio canale. Cioè, vi rendete conto che mentre lei registrava eri in mutande? Vi immaginate Charlie? No, vabbè, fa niente, ho lasciato stare, magari siete troppo piccoli. In questo girone vorrete solo rubare i reggiseni. Anche tu, Anna, e Charlie. Ma Loki non ha un reggiseno. E allora gli ruberete. La verginità. Ladri in casa. Ladri in live. Anna, stai bene? Anna? È morta. Ciao, professor, ci stanno a non entrare in camera, grazie, ciao. Luce, luce. Lollo, guarda che c'è un paradiso, non c'è luce. Ah, sei in paradiso. No, ho sbagliato. Guarda, chi è questo? San Pietro? Questo qua? Sì, esatto, perché è un Pietro. È un Pietro di spacco tutto. Tranquilla, tanto anche se lo tratti male, poi sai che è il miglior amico di tutti. Sai perché? Perché? Perché torna indietro. Vabbè, io vado via, vado via. Ciao, ciao. Ciao amici senpai, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel girone dei ladri. E Charlie ne sa qualcosa di ladri, vero? Eh? Un pochettino. Ma quanto metti ansia là sopra con la skin di i dobra? E tu mi fissi? Come? Sì, ansiati. Con lo scolacciatore in mano. Perché dovete sapere che Charlie, cosa mi ha rubato Charlie? La verginità. Aspetta, scrivetelo nei commenti. Comunque, dovete scrivere nei commenti, questo giochino che facciamo sempre, lo youtuber che secondo voi è il più ladro di tutti. Raga, però per favore non mi rubate niente se troviamo delle ceste, per favore. Io ho già rubato una cesta. Sembra di stare tipo nella foresta di Sherwood. Rubando tutta la luce. Come fai a rubare la luce? Anna, mi serve la luce. No, Anna, mi serve, non romperla. Se no nel video non si vede niente. Questa è la foresta di Sherwood. Lockywood. Lockyhood. Rubo ai ricchi. Per dare a... Aia, è esplotto tutto! Sono morto. Aia, no! No, non lo so che è stato. È l'armatura, cioè? No, è vero. Aspetta, 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 aspetta. Devo rubare qualcosa a questo. Devo rubare la carne morta, che schifo. No, 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 è tutto mio. Che manzo che sei ora, Lollo, con questa armatura. Vita. Hai sbagliato Girona. Lei sbaglia sempre Girona, non sai come mai. Sbaglia sempre Girona e sembra di stare sempre quello... No, raga, possiamo andarcene via di qui? Per favore. Ma dov'è che sei, Lollo? Facciamo tutti solo con l'arco. I Robin Hood, siamo dei ladri. Dai, facciamo così. Robin Hood e Little John nella foresta. Little Lock. Dai, cosa facciamo? Allora, Anna fa Frannac. Frannac, perché si chiama Anna. Mori, stupido, dammi un po' di frecce, che sono a corte. Non ce l'ho... Sono a corte, verbo essere, mi raccomando. Sono a corte. No, ecco, vedo qualcosa. Vedo tipo delle luci, ne spacchiamo tutti questi spawner, maledetti. Non rubatemi. Oh, c'è una cesta, vi rubo tutto. C'è una cesta, vi rubo tutto. Cos'è sta roba? In chi vuole rubare cosa? No, c'è un'enderpearl. Allora, dove sei? Dove sei? C'è qualche scherzetto. Robin, the little lock va nella foresta. Lock è stato ucciso da mille stupidi. Cos'è? Ci sono delle pozioni in pila. Ma cos'è sta roba? Lo sto picchiando. L'arco, dovete usare tutti l'arco. Charlie, non imbrogliare. Ma lo sto usando, poi però sì, sono avvicinati troppo. Ahia, no, sto prendendo l'arco. È questo, è colpa sua. Ma forza, che cacchio vuoi te? Anna, Anna, non col piccone, devi usare l'arco. Siamo dei robinud oggi. Dei robinuders. Siamo dei robinudi. Siamo dei robinuders. Siamo dei robinuders. Ok, l'ho spaccato, l'ho spaccato, sono dei robinuders. Sai che bello se uno si chiamasse... Cos'è questo? Aiuto. Questa è una guardia del re. Come si chiamava il re? Eh, del Giovanni, no. Lione, Giovanni. Ah, scusa. Ok, ah, scappa. Oh, ma quanti, quanti cacchioli? Non lo so, mi sa che dobbiamo andare giù. Però non così. Muori! No, raga, ci sono gli spider jokey spider. Cioè, nel senso che... Con le paperelle, i ragnetti gay, i spider jokey. Espe, 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 spider... Ah! Oh, oh, questa è una guardia. No, 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 la mia, 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 mia. Non c'è spazio nell'inventario. No! Ho buttato lo scoraccio tra me. Mi avete rubato tutto. Cosa c'era dentro? Eh, niente. Niente? Niente di interessante, no. Quanti sono tutte le guardie di re Giovanni? Morire! Non mi toccare. Porta, apposta. Ma quanti ne arrivano? Ma ancora quanti andate? The walking... Via, 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 via. Scappa, scappa, scappa. E scappa dove? Non c'è più niente qua, è chiuso. Ah, qua sotto si può andare da qualche parte. Questo è il piccolo indiamante. È incantato pure. Ti prego, me lo vuoi dare, per favore? Anzi, no, te lo rubo. Mio. Ma quante fricce ho, per dire. No, no, tutto mio, tutto mio, tutto mio, datemi la roba. Ah, c'ho infiniti. Anna? Dai, Charlie, smettila, per favore. Ruvo tutto, ruvo. Cos'è sta cesto? È la mera, la fernaccia. Sta derubando tutto. Ma poi... C'è la cesta, lì la vado a rubare. Sì, ma sono io il più po... Ma, scusami. Ma trinamente io ho infiniti, è bellissima sta cosa. No, 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 lasciala, la voglio io. La voglio, mi lascia. Non fa niente sta cosa. Lasciatemi stare. Cosa c'è qui dentro? Ma questa è mia, però, ve lo rubo io adesso. Ma non c'è quello indiamante. Non so come mi ha spinto giù. Aiuto. Anche a te. Non guardate l'enderman? Chi ha guardato l'enderman? No, io no. Anna. Aiuto. Raga, siamo arrivati a un castello. Cosa? C'è il castello di Re Giovanni? L'abbiamo trovato? Eccolo. Che bello è. Dobbiamo entrare a rubare i soldi. Perché c'è la T? Secondo c'entra qualcosa con Tierless? Oh, attenti, qui da qualche parte ci dovrebbe essere quel... Quello ci dovrebbe essere? Quello che dice... Mezzanotte, tutto va bene. È l'una di notte, tutto va bene. Ah, no, ero rimasto un attimo paralizzato da quello che stavi dicendo te. Ma hai capito che intendo? Sì, sì. Quello che faceva tipo la guardia. Qui sono un sacco di geste. Uh, quante frecce! Che me ne frega delle frecce? C'è un infinito. Cosa stai rubando, Anna? Le torrette. Ah, vi siete dimenticati del torrette. Anna, sai perché oggi stai sbagliando tanto? Perché? Perché ti ho rubato il sonno. Quale mi ha rubato il sonno? È un ladro. Sono un ladro. Oggi sono un ladro. Ahia! Odio le CTM. Quanto stiamo... Lavoro di squadra? Siamo di ladri, raga. Non va bene. No, ancora Orange is the new black. Basta, ti prank. Dobbiamo andare alla sala del trono. Dov'è la sala del trono? Chi è, chi è? Ahia, troppi prigionieri. Leccatevi le vostre stupide passere e lasciateci stare. Ah! Tu stiamo andando... È il mio il trono. È il mio il trono reception. Quello è il trono. C'è il bloc? No, no. Ma queste sono tutte le celle? Secondo voi tenevano qui rinchiusa la mamma di Locchi? Eh, probabilmente. Anche se non mi colpite da dietro, per favore. Maximum security. Oddio, raga, sto andando tipo dove c'è la sicurezza massima. Scendiamo, scendiamo che qua c'è la sicurezza massima. Questa troviamo qualcosa. Fate attenzione qua. Che c'è tutto in lava. È tutto in lava. Devo andare a rubare, dove andare a rubare. È qui che fanno il buco. Anna. Anna. E adesso? Come si passa? Potete togliervi, per favore. Ok. Ciao. Potete. Ok, grazie. Mi sono rotto. Dove siamo? Ok. Anna non passerà mai di qua. È tutto nostro, Charlie. Rubiamo tutto noi. Anna. Ah, no. Vai giù. Allora, forse ho trovato. In questa cella non c'è niente. No. Cos'è sto cosa? Vabbè, non so stare. Però in questa cella, prima stavo guardando. E qua, tra mille segreti. Guardate cosa c'è scritto. Ah, questo qui è una sala di controllo, praticamente. Dove passano davanti ai prigionieri, però quelli che scappano verano esercizzi. Ma qua cosa c'è? Guarda. Eh? Abbiamo trovato una botola. Ma secondo te tutti questi prigionieri sono qui perché erano dei ladri? Secondo te? Secondo me sì. Secondo me erano dei ladri. Anna, ci stai chiudendo di... Anna, dove stai andando? Ho più paura. Oh mio Dio. Qui dovresti finire. Ah, adesso arrivano però i mobè. No, no. Anna, lascia ce l'ha. Anna, è il mio vid. Me l'ha data. Un piccone, che carino. Il piccone l'ho lasciato io lì dentro. È il mio scarto. Dai. Anna, fai schifo, veramente. Ma che vuoi? Anche tu sei una ladra. Ma sì, ma tu di più. Perché tu direi cosa... Porca mia. Anna? Ah, Anna sei morta, eh? Adesso faccio così. No. E adesso è tutto mio. È tutto mio. No, no, no. Ma come avete fatto? Dai, raga, però mica non potete tipparvi così, cazzo. Che è questo accidente? Non lo so. Non lo so. Picchi, picchi. Non entrirete mai. Questa cassetta è mia. L'abbiamo trovato. Anna! E adesso è morita. No, no, no. Dammi la cassetta. No, è mia la cassetta. Smettila. Andai, come fa di essere di nuovo qui, stupido strega? Mia la cassetta. No. Ma quando si è tutto mio? Torno, no. La vado a mettere prima io. Dov'è? Dov'è l'uscita? Che... No. Ah, io. Grazie, così è più facile. No. Scusa, che che faccio uscire di qua? L'occhio sta acciso dalla pozione usando la magia. E' stata Anna. E' Anna. Anna! Anna! Scusa. Ah, ecco Anna. Ecco. Più scusa. Scusati di più. Scusa. Di più. Scusa. Come fai a farti perdonare adesso? Cioè, ti ho già dato la mia mela d'oro, eh? Quindi, così non è che posso fare. Ah, ma lei me l'hai già data. Sì, te l'hai già data. Proviamo a mettere il disco. Mi raccomando, scrivete nei commenti chi, secondo voi, è lo youtuber più ladro di YouTube. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì! No! No, è incredibile. Non ci posso credere. Iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. No! È proprio lui! Che cosa è successo? Perché sono finito in prigione? Che cosa è successo? Sono finito veramente in prigione. È a testa anche, Charlie. No. L'hai presa dopo l'episodio. Eh, sì. Eh, però sembrava tipo il cappuccio di Robin Hood. È vero. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ci manca veramente poco per scoprire chi è la mamma o le mamme di Locchino. Passate dai canali di Charlie e Anna. Sai che ogni volta mi viene da dire tipo da Annie e Charlie? L'inverto così. Passate dai loro canali. Spero avete una buona giornata infernale, bella. Vole che bella, 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 bella. E poi ci sono tanti peccati.